Ciao Mi chiamo Bibi Magliocco, vengo da Salsedus, faccio snowboard Oggi il Piper c'era un po' di neve dentro perché io è nevicato anche stamattina e poi c'è il vento ma ho la tavola nuova e quindi sono andata bene Come è andata oggi la giornata di Bibi? Sono molto contento Bibi della tua prestazione oggi perché non era facile col vento, la neve di riporto e con le poche possibilità che abbiamo avuto ad allenarci stai facendo benissimo La vita al villaggio è strana perché devi abituarti un po' che ci sono un sacco di controlli Metal Detector e altre cose E poi è bello perché comunque è pieno di nazioni e fai sempre amicizia anche quando sali le scalle o sei in ascensore quindi è bello Ecco sta per partire la Bibi, seguiamelo insieme Ecco, droppa, droppa da sinistra Vediamo la prima uscita Il suo standard, Indy Grab Backside Air, quasi grebato Nosegrab Standard Air Stainfish Che voglia di essere per fare? Forse 100 Non è andata oggi Bibi? A Bibi oggi direi che si è comportata alla grande Un po' il tempo non è stato al massimo ma i prossimi giorni danno sicuramente condizioni migliori E il confronto con le altre atlete è stato alla grande È andata alla grande Ci aspettiamo grandi cose Bene Grazie a tutti Grazie a tutti